Ma che c***o! Ti metti una domandina? No, no, adesso lo dai, due secondi. Sì, ti sangue una p***a, dai, Carla, vieni. Non siamo neanche a metà giocata, ma la sono già fatta. Ma già solo sentire i suonali dei cavalli, stamattina avevo un'ansia bellissima, è come quando arriva Natale. Solo che era tre anni che non arrivava Natale, quindi i regali sono belli quest'anno. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti